Siamo qua con l'Antonio Vitale degli strafò che hanno battuto i rigori 4-2 di Aquile, ecco Fabio Rozzoni che lo bagna, ve lo sentivi dei rigori? Sì, infatti ha detto l'obiettivo di andare ai rigori che l'avremmo vinto, confermo là, me l'ha detto, portala ai rigori E le parate durante la partita? Quando si è carichi, magari poi escono cose che magari quando non si è carico non riesci a fare Un voto alla partita? 10 e mezzo Una menzione in particolare è per tutti loro, per tutto il pubblico Salutiamo la Casta Rozzone, a domani, buonasera Grazie a tutti